Gli agropolesi rispondono in modo molto positivo all'iniziativa lanciata qualche giorno fa da alcuni cittadini al fine di combattere il coronavirus con striscioni colorati e con uno slogan che rappresenta la speranza di ogni italiano. Tutto andrà bene, questa è la frase che i bambini stanno scrivendo sugli striscioni accompagnata da un grande arcobaleno colorato. L'iniziativa, condivisa anche dalla nostra emittente nei giorni scorsi, sta raccogliendo tanti consensi in tutta la città e cominciano già a vedersi vari striscioni fuori dai balconi delle abitazioni. Invitiamo tutti i cittadini che non hanno già partecipato all'iniziativa ad attivarsi insieme ai propri bambini per realizzare lo striscione e per chi non ne sia a conoscenza riportiamo le parole di coloro che si sono fatti promotori dell'iniziativa. Stiamo lanciando questa iniziativa, ogni famiglia dovrebbe disegnare un arcobaleno su un cartellone o un lenzuolo con la scritta, tutto andrà bene, per poi appenderlo su finestre, balconi o terrazze. Vogliamo lanciare un'ondata di positività e in più i bimbi si divertiranno a dipingere. Fate girare questo messaggio, iniziativa ludica per dare un po' di colore a questa situazione grigia. Andrà tutto bene, intanto anche la scuola Baby Disney di Agropoli si è organizzata con i propri bambini per realizzare quest'iniziativa che virtualmente stanno portando avanti insieme. In un periodo difficile come questo anche delle piccole cose, un po' di colore ed un messaggio di speranza possono farci sentire meglio, quindi chiediamo a tutti di attivarsi per portare avanti questa splendida iniziativa.